Professore Conte Gentile Presidente, gentili senatrici e gentili senatori, anch'io mi associo a nome del Governo innanzitutto a questo ricordo del Senatore Emanuele Macaluso che è stato qui per tantissimi anni e ha svolto l'attività, da questi scranni e poi per tantissimi altri anni come stimato giornalista. Io credo che anche chi non ne ha condiviso le idee politiche possa convenire che è stato un grande protagonista della vita politica italiana e della vita culturale italiana. All'inizio di questa esperienza di Governo, il 9 settembre 2019, prefigurai proprio in quest'Aula un chiaro progetto politico per il Paese. Precisai subito che il programma sul quale mi accingevo a chiedere la fiducia al Parlamento non si risolveva e non poteva risolversi in una mera elencazione di proposte eterogenee, né tantomeno in una sterile sommatoria delle posizioni assunte da ciascuna delle forze politiche che avrebbero sostenuto la maggioranza. Già allora ero consapevole che un'alleanza tra formazioni politiche provenienti da storie, tradizioni, esperienze, culture differenti, che per giunta si erano anche contrapposte, attratti anche in maniera molto aspra, nel più recente passato, non poteva nascere questa alleanza solo sulla base di due discriminanti fondamentali. La prima, non una estrinseca adesione, ma un convinto ancoraggio ai valori costituzionali, tra cui il primato della persona, lavoro, l'uguaglianza nella duplice veste formale e sostanziale, tutela dell'ambiente e poi ancora la solida vocazione europeista del nostro Paese in modo da realizzare anche più appieno l'interesse nazionale, da consentire all'Italia di tornare protagonista nello scenario europeo e contribuire a far recuperare all'Unione Europea intera la posizione di leadership nell'attuale contesto geopolitico internazionale. E sin dal momento dell'elaborazione del programma, alla quale mi dedicai anch'io insieme alle delegazioni delle forze politiche di maggioranza, perché feci in modo, facciamo tutti in modo, insieme, che si delineasse la prospettiva di un disegno riformatore ampio e coraggioso. Affermai allora che quel progetto politico avrebbe segnato l'inizio di una nuova, che abbiamo sperato tutti e speriamo ancora, risolutiva stagione riformatrice, orientata all'edificazione di una società più equa e più inclusiva, capace di coniugare l'obiettivo primario della crescita economica, del rilancio e della modernizzazione con le esigenze imprescindibili della sostenibilità, della coesione sociale e territoriale nell'orizzonte del pieno sviluppo della persona umana. E ancora oggi, dopo più di un anno, a riguardare quei 29 punti programmatici, ravviso che nel progetto di Paese che abbiamo condiviso e delineato insieme, seppure in circostanze e condizioni complesse, c'era visione, c'era una forte spinta ideale, c'era un chiaro investimento di fiducia. All'inizio del 2020 le condizioni per l'attuazione di quel progetto si sono misurate, purtroppo, con l'uragano della pandemia. È stato un uragano ed è un uragano che ha sconvolto e sta sconvolgendo in profondità la nostra società, le nostre abitudini di vita, il nostro destino collettivo. La pandemia ci ha costretto a ridefinire priorità, a ripensare il nostro modello di sviluppo, la dinamica stessa delle nostre relazioni. Stiamo affrontando una sfida di portata epocale, ci stiamo misurando con l'esigenza di definire le linee ricostruttive di una società che è segnata di nuovo, sembra un riprecipitare al passato, da paure primordiali, spesso conosciute appunto da generazioni del passato, paure legate al rischio di perdere beni essenziali come la vita, la salute, di tornare a sentirci tutti profondamente fragili. Alcune nostre pur radicate certezze sono state improvvisamente messe in discussione. La politica, la politica stessa è stata costretta a misurarsi pressoché quotidianamente, come forse mai aveva fatto prima, con la scienza, con la tecnica, nella difficoltà di offrire risposte efficaci, rapidi, rispetto a una travolgente emergenza sanitaria, a una severa recessione economica. Anche le nostre più consolidate cognizioni giuridiche sono state severamente interrogate. In virtù dello stato di emergenza siamo stati costretti a introdurre, primi in Occidente, con tutti i dubbi, le perplessità, le difficoltà, ovviamente poco dopo, seguiti da tutti gli altri paesi, abbiamo dovuto introdurre misure restrittive dei diritti della persona, operando delicatissimi, faticosissimi bilanciamenti dei principi dei diritti costituzionali. In questi mesi così drammatici, pur a fronte di una complessità senza precedenti, questa maggioranza è riuscita a dimostrare grande responsabilità, raggiungendo, certo, con fatica, convergenze di vedute e risolutezza di azione, come era richiesto, soprattutto nei passaggi più critici. Abbiamo coltivato un costante, serato dialogo con tutti i livelli istituzionali del nostro ordinamento, a partire dalle autorità regionali, fino a quelle comunali, nella consapevolezza che solo praticando, in modo, direi, indefesso, il principio di leale collaborazione, sarebbe stato possibile perseguire strategie di intervento efficaci, considerato, a tacere d'altro, che le competenze in materia di gestione sanitaria sono rimesse nel nostro ordinamento primariamente alle regioni. Non solo. L'esperienza della pandemia ha rafforzato nelle forze politiche che hanno, con lealtà, sostenuto il Governo, la consapevolezza del valore del dialogo, del confronto dialettico tra posizioni anche distanti, che è un presupposto ineludibile per compiere le scelte più giuste, per operare quelle sintesi superiori e superiore interesse collettivo, per assumere le decisioni fondamentali alle quali, per la gravità dell'ora, non potevamo sottrarci. Abbiamo operato sempre le scelte migliori? Abbiamo assunto sempre le decisioni più giuste? Ciascuno, sul punto, esprimerà le proprie valutazioni. Siamo nel campo dell'opinabile. Per parte mia posso dire che il Governo ha operato i delicati bilanciamenti e gli interessi costituzionali di volta in volta coinvolti con il massimo scrupolo, con la massima attenzione nella consapevolezza delle conseguenze di mane portata che si sarebbero prodotte nella vita dei singoli e per il futuro della nostra comunità. E se oggi a voi che siete qui in quest'Aula, i cittadini che ci seguono da casa, posso parlare a testa alta? Non è per l'arroganza di chi ritiene di non avere mai sbagliato, ma per la consapevolezza di chi insieme a tutta la squadra di governo ha impegnato tutte le proprie energie fisiche e intellettive per offrire la migliore protezione possibile alla comunità nazionale. In tutti questi mesi si è elevato un dibattito politico, un dibattito politico anche di un certo spessore che riguarda il ruolo della politica. Ci siamo tutti interrogati sul ruolo della politica. Ecco, io ho già rilevato che chiaramente il dialogo tra politica e scienza è diventato particolarmente intenso, particolarmente fitto, dicevo pressoché quotidiano, ma in realtà mai come in questo periodo la politica è stata chiamata ad assolvere alla sua più nobile missione, di operare scelte per il bene comune, alcune delle quali di portata tragica. è stata la politica la scelta di tutelare in via prioritaria la salute e questa è stata un'intuizione e una convinzione che si è subito radicata nel governo, non solo in quanto la salute è il diritto fondamentale della persona a interesse primario della collettività, ma anche nella consapevolezza che solo tutelando quel bene primario si potesse preservare e si può preservare il tessuto produttivo del Paese. Tutta politica, poi, è stata la scelta di destinare, anche ricorrendo a ripetuti progressivi scostamenti di bilancio ingenti risorse più di cento miliardi di euro in termini di indebitamento netto a sostegno di lavoratori, imprese, famiglie, categorie fragili, corristori, in qualche misura correlati rispetto alle perdite subite, anche se, come ho precisato ieri, non volevo certo e non intendo certo dire che questi risori sono sufficienti a compensare integralmente le perdite subite. E sono questi interventi che ci hanno concesso di poter erigere una cintura di protezione sociale ed economica. È stata apprezzata anche dai lusti economisti come il premio Nobel Krugman. poi fortemente politica ancora è stata la determinazione con la quale il governo primo fra i governi europei ha chiesto, ha promosso un'iniziativa e ha chiesto all'Unione Europea di rispondere alla crisi in modo radicalmente diverso rispetto al passato, di farsi promotrice di politiche espansive finanziate da strumenti di debito comune orientate al raggiungimento di strategie condivise. e lo storico accordo sul programma Next Generation EU per il raggiungimento del quale l'Italia ha avuto un ruolo propulsivo e decisivo spendendosi a ogni livello in ogni sede formale e informale non solo vedete ci consente di disporre di 209 miliardi di euro ma impresso e questo è ancora forse più importante è ancora più importante in prospettiva perché è impresso alla politica europea una svolta irreversibile inaugurando un nuovo corso suscettibile di mutare profondamente i paradigmi delle politiche economiche e il volto stesso dell'Unione Europea e ne discuteremo e ne discuteremo di questa svolta prossimamente nell'ambito della conferenza sul futuro dell'Europa non è questo l'esito anch'esso evidentemente politico della scelta europeista che ha rappresentato una delle ragioni fondative di questa alleanza di governo ancora politica è stata la scelta di accompagnare le misure emergenziali con interventi strutturali suscettibili nel medio e lungo periodo di generare effetti virtuosi anche nei momenti più complessi dell'emergenza sanitaria ed economica infatti non abbiamo mai rinunciato a porre le basi per il rilancio del paese e già con la legge di bilancio del 2020 ricordo il governo ha introdotto il taglio del cuneo fiscale a beneficio dei lavoratori che poi ha reso strutturale pensate anche al taglio del super ticket sanitario per gli asili nido e bonus edilizi di vari interventi per la sostenibilità ambientale la rigenerazione urbana e taccio di altre misure quindi abbiamo subito raccolto la sfida di trasformare le difficoltà in opportunità consapevoli delle deficienze strutturali del nostro paese abbiamo posto le basi per un deciso rilancio della crescita realizzando un ambiente più favorevole agli investimenti privati più propenso alla ricerca all'innovazione più attento alla costruzione al rafforzamento delle competenze e se esaminate e andiamo con la mente a tutti i decreti legge emanati durante le prime fasi dell'emergenza e sino all'ultima legge di bilancio troveremo misure anche strutturali che si leggono e possono essere interpretate in questa prospettiva pensate ai ventuno miliardi dal duemilaventi duemilaventisei di risorse disponibili a fine di potenziare la rete di assistenza ospedaliera territoriale valorizzare il personale medico infermieristico assumere il personale sanitario investire nella formazione di medici e infermieri pensate alle misure per la scuola all'università abbiamo rafforzato qui ulteriormente gli interventi sugli organici sulla digitalizzazione gli investimenti nell'edizia scolastica universitaria nella ricerca abbiamo ampliato la no tax area per gli studenti universitari per il personale scolastico e abbiamo già i primi risultati per quanto riguarda l'inversione nel numero è un segnale importante il numero di immatricolati nelle università meridionali era sempre negativo è cresciuto al 6,7% a partire dal prossimo luglio partirà una grande risforma all'assegno unico mensile per ciascun figlio a carico fino a 21 anni d'età che coinvolgerà 12 milioni e mezzo di bambini e di ragazzi è una misura che si colloca in una cornice più ampia di interventi volta ad alleggerire la pressione economica sulle famiglie e a ridurre il carico di cura che grava in particolare sulle donne stimolando anche l'occupazione femminile abbiamo introdotto robusti incentivi privati incentivi per gli investimenti privati privilegiando in particolare la transizione verde digitale l'occupazione femminile quella giovanile anche in quest'ottica si comprende il rafforzamento del pacchetto transizione 4.0 con particolare attenzione agli investimenti in nuove tecnologie digitali anche in quest'ottica va interpretato il super bonus al 110% per l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico degli edifici abbiamo azzerato per tre anni i contributi per le assunzioni dei giovani sotto i 35 anni in tutta Italia e abbiamo introdotto una decontribuzione totale per l'assunzione delle lavoratrici donne abbiamo introdotto e portato al regime fino al 2029 la fiscalità di vantaggio per tutte le imprese che operano nel mezzogiorno noi non siamo meridionalisti per vocazione intellettuale per colmare il gap che non fa correre l'Italia perché se non corre il mezzogiorno l'abbiamo chiarito sempre non può correre l'Italia abbiamo quindi introdotto un taglio dei contributi previdenziali e il 30% per i primi cinque anni e poi ancora vorrei ricordare due misure per dare il senso di interventi che guardano e danno una visione per il paese volte a migliorare la competitività del nostro tessuto produttivo che è fatto soprattutto di piccole e medie imprese ma ovviamente anche le grandi imprese stentano in questo contesto di crisi mi riferisco al fondo patrimonio PMI gestito da Invitalia che favorisce la capitalizzazione piccole e medie imprese che investono sul proprio rilancio e al patrimonio destinato gestito da cassa depositi e prestiti che potrà contribuire non solo al sostegno ma anche alla crescita delle imprese con fatturato superiore a 50 milioni di euro sono le 10 ore di mattina anche in vista della grande sfida del recovery plan abbiamo voluto ridefinire con chiarezza il quadro normativo a supporto degli investimenti in particolare in quelli infrastrutturali il decreto legge semplificazioni è volto proprio a preparare l'ambiente giuridico più idoneo per dare la possibilità a queste nuove misure questi nuovi investimenti di poter essere messi a terra efficacemente abbiamo definito infatti un percorso accelerato per la realizzazione delle opere pubbliche siamo intervenuti a ridefinire in modo molto accorto il regime di responsabilità della pubblica amministrazione con particolare riguardo alla ridefinizione della responsabilità erariale alla delimitazione del reato di abuso di ufficio cioè abbiamo creato le premesse perché i funzionari gli incaricati di pubblici servizi possano operare in un quadro di maggiori certezze giuridiche secondo logiche quindi di maggiore efficienza e a questo riguardo viene sento spesso sollevata l'obiezione devo dire il vero è successo anche ieri alla camera secondo cui a distanza di alcuni mesi le opere pur ritenute prioritarie nel quadro del decreto semplificazioni sarebbero ancora bloccate perché mancherebbe la designazione dei relativi commissari a parte che adesso i commissari la lista c'è ma non è così queste opere non sono mai state bloccate perché è stato applicato l'articolo 2 del decreto semplificazioni che attribuisce poteri speciali propri dei commissari ai rupe responsabili unici di progetto e lo testimonia il fatto che nel 2020 pensate pur in questo contesto economico così difficile gli appalti soprattutto quelli di Anas e RFI sono cresciuti siamo arrivati a un totale di 43,3 miliardi rispetto ai 39,4 del 2019 non avremmo potuto realizzare tutto questo e ovviamente è un piccolo florilegio delle misure introdotte se non ci fosse stata condivisione collaborazione responsabilità in ciascuna forza politica ciascuna forza politica perché vedete questa pandemia quando si soffre quando il paese soffre così tanto il paese è più unito il senso di comunità si è risvegliato e si è rafforzata anche l'unità del governo si è elevato il tenore della nostra alleanza si sono rafforzate le ragioni anche del nostro stare insieme in questa prospettiva è stato fondamentale il senso di responsabilità dimostrato anche dalle forze politiche di opposizione che pur nella differenziazione dei ruoli delle posizioni politiche hanno avete contribuito ad affrontare con responsabilità alcuni passaggi molto critici penso ad esempio alle varie occasioni in cui avete votato lo scostamento di bilancio avete avanzato proposte concrete qualificanti alcune delle quali sono state convintamente accolte e condivise anche dalla maggioranza e grazie a questo dialogo con le opposizioni che abbiamo potuto tutti insieme potenziare in occasione dell'ultima legge di bilancio ad esempio le misure di sostegno per i lavoratori autonomi le partite iva è proprio nei momenti più critici della storia di un paese che dobbiamo ritrovare le ragioni alte alte della politica quelle che ispirano le scelte più autentiche le ragioni che muovono l'impegno di chi di chi crede che la politica sia essenzialmente servizio alla comunità nazionale non la politica come esercizio del potere la politica quale gestione del contingente ma la politica come pensiero come azione orientate all'uomo ai suoi bisogni alle sue aspettative dopo dopo aver attraversato questo tornante della storia umana che alla nostra generazione è capitato di vivere nulla sarà come prima il governo deve essere all'altezza di questo elevato compito purtroppo però al culmine di alcune settimane di attacchi mediatici molto aspri a tratti anche scomposti alcuni esponenti di Italia Viva hanno anticipato poi confermato di volersi smarcare dal percorso comune nel seguito è storia recente cronaca recente un'astenzione delle ministri di Italia Viva al momento dell'approvazione in consiglio dei ministri del piano nazionale di ripresa e resilienza con la motivazione sostanziale o comunque principale che non contempla le risorse del MES che tuttavia come sapete tutti è uno strumento di finanziamento che nulla ha a che vedere con le risorse del recovery fund da ultimo poi lo scorso 13 gennaio è stata indetta una conferenza stampa nel corso della quale sono state annunciate poi confermate per iscritto le dimissioni delle ministre si è aperta quindi una crisi che oggi deve trovare in questa sede istituzionale il proprio chiarimento secondo i principi di trasparenza del confronto linearità di azione che hanno sin qui caratterizzato il mio mandato e che sono canoni essenziali di una democrazia parlamentare è una crisi che avviene in una fase cruciale del nostro paese a pandemia ancora in corso con tante famiglie che stanno ancora soffrendo la perdita dei propri cari e io l'ho confessato ieri ho confessato di avvertire un certo disagio perché sono qui oggi sono qui oggi non per illustrare se mai discutere con voi le misure di sostegno per i cittadini per l'impresa non per se mai illustrare e discutere con voi la versione aggiornata del recovery plan ma per provare a spiegare una crisi di cui immagino i cittadini e io stesso non ravviso alcun plausibile fondamento le nostre energie che dovrebbero essere tutte sempre concentrate sulle risposte urgenti alla crisi catenaria del paese appaiono così agli occhi dei cittadini dissipate in contrapunti polemici anche sterili del tutto incomprensibili agli occhi dei medesimi cittadini che ogni giorno si misurano con la paura della malattia con l'ospetto dell'impoverimento con il disagio sociale anche psicologico con l'angoscia del futuro l'ho detto anche ieri con questa crisi noi tutti la classe politica tutta rischia di perdere il contatto con la realtà c'era davvero bisogno di aprire una crisi politica in questa fase ritengo di no infatti i ministri gli alliati di governo che hanno potuto seguire anche che da vicino le vicende di queste ultime settimane sono testimoni del fatto che abbiamo compiuto ogni sforzo con la massima disponibilità per evitare che questa crisi potesse esplodere nonostante le continue pretese le critiche sempre più incalzanti i continui rilancio rilanci concentrati spesso e certo non casualmente su temi palesemente divisivi rispetto alle varie sensibilità delle forze di maggioranza di qui poi le accuse rivolte a tutto il governo ma in particolare anche al mio ruolo ad un tempo di immobilismo e di correre troppo di accentrare i poteri e di non avere la capacità di decidere vi assicuro che è complicato molto complicato governare in queste condizioni con chi continuamente dissemina mine sul percorso comune e mira allogorare un equilibrio politico pazientemente raggiunto dalle forze di maggioranza questa è una crisi che ha aperto una ferita profonda all'interno della combagine di governo tra le forze di maggioranza ma ha provocato anche sgomento nel paese è una crisi che rischia anche di produrre danni alla nostra immagine ha tirato l'attenzione dei media internazionali delle cancellerie straniere arrivati quindi a questo punto non si può cancellare quel che è accaduto pensare di poter recuperare quel clima di fiducia quel senso di affidamento che sono fondamentali imprescindibili per poter lavorare tutti insieme nell'interesse del paese quindi adesso bisogna voltare pagina questo paese merita un governo coeso dedito a tempo pieno a lavorare esclusivamente per il benessere dei cittadini per favorire per favorire una pronta ripartenza della nostra vita sociale e una incisiva ripresa della nostra economia e i compiti che attendono il governo sono molteplici tutti urgenti innanzitutto bisogna continuare a lavorare tutti insieme per mettere in sicurezza del paese e portarlo fuori da questa pandemia il piano dei vaccini non vi sfugge sta procedendo speditamente siamo i primi in Europa ma dobbiamo continuare a lavorare con la massima determinazione in attesa che si rendano disponibili nuovi vaccini e di potere poi sperimentare speriamo quanto prima le nuove terapie degli anticorpi monoclonali tra le altre cose nei prossimi mesi sarà importante rafforzare la politica di testing anche dando seguito all'ultima risoluzione approvata dal Senato dobbiamo poi secondo punto dobbiamo assolutamente completare il recovery plan con urgenza abbiamo inviato al Parlamento il documento aggiornato aggiornato in virtù del contributo di tutte le forze di maggioranza che le ringrazio per questo miglioramento e adesso restiamo in attesa di ricevere le preziose indicazioni contenute e saranno contenute nelle risoluzioni del Parlamento e voglio approfittare anche di questa occasione per rivolgere un pensiero di ringraziamento al nome del governo a tutte le associazioni che rappresentano le categorie produttive al sindacato italiano durante questa pandemia tutte queste associazioni stanno offrendo un contributo indispensabile a rendere i nostri interventi ancora più efficaci e ho dato atto anche che stanno contribuendo a una funzione importantissima di questi tempi la tenuta sociale del Paese peraltro con i protocolli di sicurezza insieme al CTS da ultimo con la disponibilità a collaborare per velocizzare la somministrazione dei vaccini hanno posto tutte le associazioni le premesse perché tutela della salute sicurezza dei luoghi di lavoro ripresa economica possano marciare all'unisono ecco anche loro saranno coinvolte in questo processo immagino da voi in audizione e anche dal Parlamento dal Governo perché illustreremo anche a loro questa nuova versione aggiornata del Recovery Plan ci aspettiamo anche da loro un contributo e tengo poi a sottolineare che una volta poi ricevute le preziose indicazioni del Parlamento contenute nelle risoluzioni noi lavoreremo alla versione definitiva del Recovery Plan lo riporteremo in Parlamento per l'approvazione definitiva quindi ci sarà ampia possibilità di interloquire e di raccogliere tutte le vostre indicazioni attenzione attenzione però perché questo sforzo collettivo possa produrre i suoi effetti e non dobbiamo abbassare la soglia di attenzione perché è uno sforzo per il nostro paese non da poco dovremo anche accompagnare il piano con un provvedimento normativo contenente percorsi procedurali in grado di superare ostacoli burocratici e di assicurare tempi celeri e certi alla realizzazione degli investimenti e del piano di riforme insomma dovremo rinforzare quei presidi che ci consentono di rispettare i tempi di monitorare attentamente l'esecuzione dei lavori ancora dobbiamo lavorare con urgenza nei prossimi giorni già da domani per varare il nuovo decreto ristori il Parlamento sarà chiamato a pronunciarsi sulla nuova richiesta di scostamento sapete si è resa necessaria in ragione anche dell'attuale evoluzione della curva epidemiologica che prefigura nuove restrizioni per le attività economiche la somma che troverete indicata nella nostra richiesta nella nostra relazione è molto consistente 32 miliardi di euro di indebitamento netto sono risorse di tutti dei cittadini dobbiamo programmare le misure con la massima oculatezza per offrire un'ulteriore cintura di protezione sociale ed economica e di rilancio per il paese e dobbiamo ovviamente tra queste somme lo dico già anticipatamente accantonare le riserve necessarie ad attivare gli ammortizzatori sociali per tutto l'anno il 2021 ancora l'Italia ha bisogno di una serie di interventi di riforma in campo economico sociale che prevedono un rinnovato impegno del governo da qui alla fine della legislatura non voglio entrare nel dettaglio per non tediarvi però bisognerà intervenire per il lavoro dobbiamo completare la razionalizzazione del sistema degli ammortizzatori sociali una grande impegnativa riforma complessiva dobbiamo offrire solide proposte di politiche attive del lavoro marzo è già domani e sapete che la gasta integrazione del blocco dei licenziamenti vale fino alla fine di marzo dobbiamo ancora rafforzare la salute e gli interventi sulla salute non mi soffermo ancora lavorare per l'istruzione la ricerca la rivoluzione verde sostenibilità ambientale tutela del territorio dobbiamo accelerare la decarbonizzazione della produzione di energia elettrica dobbiamo promuovere il rinnovo del parco rotabile pubblico dei mezzi di trasporto privati e commerciali rafforzare la rete idrica la messa in sicurezza del territorio rigenerazione urbana tanti altri capitoli la politica industriale qui meriterebbe una una digressione ma semplifico dobbiamo continuare in questo periodo di recessione a proteggere a presidiare quelli che sono gli investimenti più strategici del paese dobbiamo favorire una strategia industriale volta a rilanciare la competitività del sistema produttivo finalizzata a generare un cambiamento strutturale verso attività economica ad alto valore aggiunto dobbiamo evitare di concentrare gli interventi secondo una logica agevole accessibile degli incentivi che rischiano però di essere distribuiti in modo indiscriminato senza apportare adeguato valore aggiunto dobbiamo rafforzare politiche di intervento sulla base di filiere produttive quelle che sono la nostra forza penso ad esempio al turismo automotiva agroindustriale ancora altre dobbiamo favorire il partenariato pubblico e privato dobbiamo rafforzare in una prospettiva di economia sociale anche il terzo settore le attività del terzo settore l'intervento degli enti non profit in modo da calibrare meglio gli interventi sui bisogni sociali che restano ancora non pienamente soddisfatti penso ai servizi abitativi servizi per l'infanzia le famiglie servizi di cura a beneficio delle vulnerabilità e degli anziani grande attenzione costante attenzione continueremo a riporre alle persone con disabilità alle fasce della popolazione più fragili e alle loro famiglie e quindi e quindi dobbiamo rafforzare le politiche di vita per la vita autosufficiente lavorare e finalmente riconoscere ci sono già iniziative in Parlamento la figura del caregiver gli strumenti tutti tutti gli strumenti delle iniziative utili a rafforzare l'inclusione sociale e poi politiche di genere empowerment femminile dobbiamo contrastare dobbiamo contrastare i divari di genere promuovendo azioni volte a incrementare l'occupazione femminile livellare i gap salariari liberare le donne dagli squilibri dei carichi di cura rafforzare il sostegno delle donne vittime di violenza imprimere una svolta nei paradigmi culturali educativi per quanto riguarda la questione di genere favorire una più trasversale integrata partecipazione delle donne all'interno della società un grande capitolo di riforma sarà la riforma fiscale qui c'è già una discussione avviata c'è un concreto progetto di riforma dobbiamo pervenire a questo per razionalizzare il quadro esistente essenziale anche per ricostruire appieno la fiducia tra cittadini e imprese e le istituzioni nonché per orientare il nostro sistema fiscale alla competitività alla crescita sostenibile dobbiamo proseguire nel percorso della digitalizzazione del paese abbiamo fatto grandi passi avanti nel settembre 2019 Speed che è l'identità digitale era conosciuta ed era stata attivata solo da 4 milioni di cittadini adesso siamo a 16 milioni e 100 mila l'app io che è quell'app che consente di avere i servizi digitalizzati con la pubblica amministrazione quindi comodamente stando a casa non esisteva nel settembre 2019 siamo adesso a 9 milioni 365 mila cittadini vedete il nostro obiettivo è ridurre queste diseguaglianze le varie diseguaglianze anche per tendere all'uguaglianza dei punti di partenza tra queste diseguaglianze o tra quelle di genere menzionate territoriali generazionali vi è una grande diseguaglianza un grande fattore di diseguaglianza il digital divide di chi ha la possibilità di accedere o meno agli strumenti infotelematici dobbiamo lavorare in questa direzione e poi cultura e turismo qui c'è tanto da fare sono tra i settori più in sofferenza più colpiti da questa pandemia dobbiamo valorizzare i principali asset culturali del paese dobbiamo lavorare per formare il personale rafforzare l'offerta turistica anche attraverso l'attrazione dei nuovi investimenti ieri alla camera abbiamo applaudito tutti alla notizia di Procida l'isola di Arturo è la nuova capitale italiana della cultura del 2022 vedete su tutti questi temi io chiaramente ho operato una sintesi c'è la possibilità tra le forze parlamentari di operare una convergenza di proposte riformatrici di proposte concrete sulle quali orientare per il riancio del paese l'azione futura di governo lavoreremo nei prossimi mesi per realizzare queste riforme questi interventi per consentire all'Italia di percorrere un sentiero di crescita con l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze esistenti a crescere la concorrenza contrastando anche le rendite di posizione lavoreremo su questa in questa direzione occorre poi dedicare un particolare impegno per proseguire convintamente anche il percorso delle riforme istituzionali precondizione essenziale per modernizzare il paese e la maggiore funzionalità delle sue istituzioni tanto più a seguito della storica riforma costituzionale che ha determinato una riduzione consistente del numero dei parlamentari approvata dalla decisa maggioranza dei cittadini in sede di referendum confermativo ieri ho annunciato anche alla camera in materia di legge elettorale l'impegno anche del governo ma ovviamente rispettando le autonome determinazioni delle forze parlamentari di promuovere e contribuire a pervenire a una riforma elettorale per quanto di competenza a una riforma elettorale di impianto proporzionale quanto più possibile condivisa perché si tratta di una legge di sistema che possa coniugare efficacemente le ragioni del pluralismo della rappresentanza con l'esigenza pur ineludibile di assicurare una complessiva stabilità al sistema politico e vorrei chiarire su questo punto perché leggo delle interpretazioni diciamo così maliziose negli anni passati noi abbiamo vissuto una frantumazione della rappresentanza il quadro delle forze politiche si è venuto differenziando sono emersi nuovi processi che si sono affermati in modo completamente nuovo anche prorompente se vogliamo ricomporre questo quadro non è possibile farlo con una legge elettorale che costringa in uno stesso involucro sensibilità pur così diverse questo artificio badate condurrebbe alla instabilità alla precarietà politica non stabilizzerebbe il quadro piuttosto mi appare urgente quindi offrire uno strumento contribuire ovviamente per quanto di ragione a perseguire uno strumento che possa dispiegarsi che possa dispiegare appieno anche la sua capacità di favorire la rappresentanza democratica di tutte le differenze che sono sul campo in modo che le varie forze politiche possano esprimere tutte le loro potenzialità che recuperino anche dall'astenzionismo i cittadini sfiduciati che definiscano il loro profilo certo credibile ovviamente poi queste forze politiche per governare saranno chiamate a definire accordi programmatici di alto profilo di forte contenuto ideale in modo da generare governi fondati su programmi chiari in grado di offrire una prospettiva solida feconda a tutti i cittadini alla modifica del sistema elettorale potranno essere efficacemente affiancate anche alcune innovazioni del sistema istituzionale tanto più necessarie alla luce dell'avvenuta riduzione del numero dei parlamentari in coerenza peraltro degli indirizzi già condivisi dai gruppi parlamentari di maggioranza nell'accordo raggiunto nell'ottobre 2019 occorre poi introdurre alcuni correttivi alla forma di governo ispirati al modello di un parlamentarismo razionalizzato che garantisca una più sicura stabilità all'esecutivo e al contempo restituisca al Parlamento un ruolo centrale nella definizione dell'indirizzo politico nazionale vedete per quanto attiene in particolare al procedimento legislativo potranno essere introdotte alcune previsioni volte a razionalizzare l'iter di approvazione delle leggi anche allo scopo di ridurre il ricorso alla decretazione di urgenza che peraltro proprio in quest'ultimo anno in regione della pandemia ha ancora di più sensibilmente accresciuto condizionato l'attività parlamentare l'esperienza poi della pandemia impone un'attenta riflessione pacata attenta meditata riflessione riguardante la revisione del titolo quinto della parte seconda della Costituzione lavoriamo tutti insieme meditiamo insieme sull'attuale riparto delle competenze legislative di Stato regioni come pure lavoriamo tutti insieme per l'individuazione di meccanismi istituti che consentano di coordinare più efficacemente il rapporto tra i diversi livelli di governo in questo contesto occorre garantire tutelare con la massima intensità anche le autonomie speciali e le minoranze linguistiche l'interesse nazionale è più che mai attenzione l'interesse nazionale è più che mai connesso nel solco della nostra migliore tradizione storica e costituzionale a un sistema che valorizzi nel quadro dell'unità della Repubblica le specifiche esigenze economiche e sociali delle diverse realtà territoriali alcune delle quali per ragioni vuoi geografiche per specificità linguistiche e culturali indubbiamente meritano tutta la nostra attenzione tutta la nostra cura sul piano internazionale l'Italia si è mossa in piena coerenza con i tradizionali pilastri della propria politica estera a partire dall'appartenenza all'Unione Europea e all'alleanza atlantica insieme alle quali abbiamo svolto un'azione di impulso e di mediazione all'altezza del nostro ruolo per cortesia per cortesia sta parlando il Presidente del Consiglio prego in seno alle quali abbiamo svolto un'azione di impulso e di mediazione all'altezza del nostro ruolo di Paese fondatore quale autorevole membro dell'Unione Europea funzione che è stata attivamente recuperata se mi concedete in questo tratto di legislatura abbiamo la possibilità di offrire anche un importante contributo a un'utile azione di raccordo tra i principali attori internazionali a partire ovviamente dagli Stati Uniti che è il nostro principale alleato fondamentale parte del strategico guardiamo con grande attenzione alla Presidenza Biden con la quale inizieremo a lavorare subito in vista anche del nostro G20 della nostra Presidenza del G20 abbiamo una fitta agenda in comune che spazia da un multilateralismo che vogliamo entrambi efficace ai cambiamenti climatici alla transizione verde quella digitale l'inclusione sociale con gli Stati Uniti e con gli altri partner dell'Unione Europea ci adopereremo poi anche al fine di avere rapporti con la Cina che è un player di rilievo globale che siano coerenti coerentemente ancorati al nostro sistema di valori e di principi e appena iniziata la Presidenza italiana l'ho già menzionata il G20 avremo la possibilità di indirizzare l'agenda globale sulle priorità che abbiamo già anticipato e che ruotano sulla triade persona pianeta prosperità come ho già ricordato in diverse occasioni porremo al centro dell'attenzione ai leader del mondo tra gli altri temi anche il tema dell'empowerment femminile dell'Africa del digital divide quest'anno poi avremo anche la responsabilità di condividere con il Regno Unito l'organizzazione della COP26 a Milano avremo due eventi veramente molto importanti in questa direzione uno è la Pre-COP e l'altro è il Youth for Climate per la prima volta parteciperanno centinaia centinaia di giovani saranno direttamente coinvolti in quello che è l'evento più importante in materia di cambiamenti climatici tutela dell'ambiente ugualmente forte e coerente e la nostra poi è stata e sarà la nostra azione sul piano regionale anche essa è in linea con il nostro interesse consolidato alla stabilizzazione e allo sviluppo del Mediterraneo con particolare riguardo a una soluzione politica alla crisi della Libia nel pieno rispetto della sua sovranità e al processo di integrazione dei Balcani occidentali nella convinzione di un destino legato alla loro appartenenza alla famiglia europea specifico rilevo abbiamo infine riservato con una intensa azione di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e il nostro sistema economico generale attraverso un impegno collettivo del governo ma in particolare della Farnesina abbiamo inoltre il privilegio di ospitare un altro evento significativo globale il Global Health Summit il prossimo 21 maggio qui a Roma è un evento che ci consentirà di rimarcare solennemente davanti a tutti i leader la rilevanza di un coordinamento globale degli sforzi per affrontare malattie e pandemie per garantire la più efficace tutela della salute ovviamente ci accingiamo a dare il nostro contributo forte chiaro programmatico strategico per in vista della imminente conferenza per il futuro dell'Europa ci offrirà l'occasione di dare un nuovo impulso all'evoluzione della nostra casa comune europea vedete è un calendario fitto di impegni di alta densità anche di alto rilievo politico non possiamo farci trovare impreparati distratti siamo tutti chiamati a compiere ciascuno per il proprio ruolo uno sforzo collettivo per essere all'altezza di tutte queste sfide ed è per questo che il governo ha bisogno della massima coesione possibile e anche del più ampio consenso in Parlamento per fare tutto questo servono un governo forze parlamentari volenterose consapevoli delle difficoltà che stiamo attraversando e della delicatezza dei compiti servono persone disponibili a riconoscere l'importanza della politica nella parte iniziale del mio intervento ho rivendicato il carattere politico delle scelte operate delle decisioni assunte la politica è la più nobile tra le arti e tra i saperi perché se declinata nel giusto spirito se indirizzata sempre e comunque al benessere dei cittadini al miglioramento della qualità di vita diventa uno strumento molto efficace anche per comporre i conflitti della società per riconoscere far convivere le differenze per interpretare le istanze anche quelle più diverse anche quelle più distanti quando la politica si eclissa queste istanze finiscono per restare margini con il rischio che rimangano afone e quindi inascoltate o che si traducano peggio in rabbia sfocino nello scontro violento abbiamo l'urgenza di fare politica tanto più in questo contesto di diffuse privazioni di profonda sofferenza perché solo la politica ci offre la possibilità di interpretare il malessere della società impedendo che esso esploda in contrapposizioni distruttive la politica può contribuire a rendere questo malessere un elemento addirittura produttivo positivo fattore di avanzamento della nazione spetta a noi quindi promuovere contribuire a mettere in forma politica le contraddizioni le aspirazioni i bisogni la volontà da parte di tutti di esprimere le proprie potenzialità penso innanzitutto anche i lavoratori a tutte le forze produttive che sono le componenti decisive da incoraggiare e promuovere per il futuro della Repubblica e questo governo intende perseguire un progetto politico chiaro e preciso che mira a modernizzare il paese migliorando le sue infrastrutture materiali e immateriali compiendo la transizione energetica digitale potenziando l'inclusione sociale il tutto nel segno dello sviluppo sostenibile sarà la nostra stella polare chi ha idee progetti volontà di farsi costruttore insieme a noi di questa alleanza votata per seguire lo sviluppo sostenibile sappia che questo è il momento giusto per contribuire a questa prospettiva questa alleanza sarà chiamata a esprimere una imprescindibile vocazione europeista ne potranno far parte solo le forze politiche disponibili a operare questa chiara scelta di campo contro le derive nazionaliste le aspirazioni sovraniste questa alleanza esiste già perché c'è già una base solida di dialogo alimentata dal movimento 5 stelle dal PD dall'EU è una base di dialogo che sta dimostrando la saldezza del suo ancoraggio l'ampiezza del suo respiro proprio in occasione della temperie generata da questa crisi sarebbe un arricchimento per questa alleanza voglio affermarlo molto chiaramente poter acquisire anche il contributo politico di formazioni che anche storicamente si collocano nel solco delle migliori tradizioni europeiste penso a quella liberale popolare socialista ma chiedo un appoggio ma voi attenzione però chiediamo un appoggio limpido e trasparente che si fondi sulla convinta adessione a un progetto politico abbiamo certo i numeri sono importanti oggi ancora di più questo è un passaggio fondamentale nella vita istituzionale del nostro paese ma la qualità i numeri sono importanti ed oggi lo sono in modo particolare però ancora più importante è la qualità del progetto politico e noi chiediamo a tutte le forze politiche e ai parlamentari anche che hanno a cuore il destino dell'Italia aiutateci a ripartire con la massima celerità aiutateci a rimarginare più presto la ferita che la crisi ha prodotto nel patto di fiducia instaurato con i cittadini perché patto di fiducia con i cittadini perché la fiducia tra le istituzioni e i cittadini deve essere reciproca un moto perpetuo deve svilupparsi in una relazione più univoca noi abbiamo chiesto ancora stiamo chiedendo ai cittadini tanti sacrifici grandi piccoli perché abbiamo detto ne siamo tutti convinti sono necessari a superare la pandemia e i cittadini hanno offerto una grande risposta una risposta di grande responsabilità che ha dimostrato la grandezza la resilienza della nostra nazione rispettando le regole accettando di fare i sacrifici richiesti hanno dimostrato di riporre anche grande fiducia nelle istituzioni ecco con il voto di oggi io confido che anche le istituzioni sappiano ripagare la fiducia dei cittadini in modo a porsi alle spalle il più rapidamente possibile il grave gesto di responsabilità il grave gesto di responsabilità che ci ha precipitato in questa condizione di oggettiva incertezza alle forze di maggioranza che sostengono questo governo voglio preannunciare peraltro che nei prossimi giorni chiederò vi chiederò di completare il confronto che hanno già avviato per definire un patto di fine legislatura e concordare insieme in un clima di piena lealtà di piena fiducia le condizioni le forme più utili per rafforzare anche la squadra di governo per parte mia ieri ho già preannunciato che viste le nuove sfide che mi attendono gli impegni anche internazionali quest'anno sono fittissimi fittissimi e pressanti non intendo mantenere la delega se non per lo stretto necessario dell'agricoltura e mi avvarrò anche della facoltà che la legge mi accorda di designare un'autorità delegata di mia fiducia come prescrive la legge che possa seguire l'operato quotidiano delle donne e degli uomini del comparto di intelligence su questo rivolgo a tutti l'invito l'ho rivolto già ieri ai parlamentari della camera evitiamo polemiche strumentali sulle donne e sugli uomini che coinvolgono anche solo indirettamente le donne degli uomini del comparto di intelligence voi siete tutti i parlamentari se avete dei dubbi delle perplessità legittime in democrazia anzi vi invito a super iniziativa però avete due possibilità una se il percorso normativo attuale la regolamentazione attuale non vi soddisfa c'è il percorso normativo di un iter normativo per eventuali modifiche la seconda se avete delle perplessità su profili gestionali c'è una sede il copasi rivolgetevi ai vostri colleghi del copasi hanno l'obbligo di vigilare e controllare da parte mia assicuro la massima disponibilità e l'impegno a guidare con il contributo di tutti questa fase così decisiva per il rinnovamento del paese il presidente della repubblica Sergio Mattarella nel suo messaggio di fine anno al paese ha detto la fiducia di cui abbiamo bisogno si costruisce così tenendo connesse le responsabilità delle istituzioni con i sentimenti delle persone se il parlamento vorrà accordare la fiducia al governo garantisco a voi tutti a tutti i cittadini che non solo continueremo a impiegare tutte le nostre energie fisiche intellettive per assolvere il nostro compito ma ci aggiungeremo anche come sempre il nostro cuore perché la politica senza i greci la chiamavano siumpatea quel sentimento di reale condivisione rimane una disciplina senza anima dobbiamo costruire un nuovo vincolo politico rivolto alle forze parlamentari che hanno sostenuto con lealtà e il governo aperto a tutti coloro che hanno a cuore il destino dell'Italia io sono disposto a fare la mia parte viva l'Italia grazie termina così il nostro momento di informazione chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive che